Si stanno scordando che il 4 dicembre hanno stabilito che le province ci sono, ma peggio ancora si sono scordate in questi anni che le province gestiscono le strade e le scuole superiori. Io credo che ci sia una non consapevolezza del rischio che si vanno a mettere questi servizi. È un grido di rabbia quello che tutti i presidenti di provincia stanno lanciando in questi giorni nell'ambito della settimana di mobilitazione a difesa dei diritti e della sicurezza delle comunità e dei territori. Noi non cerchiamo le risorse per l'ente in quanto tale, noi cerchiamo le risorse per le scuole superiori dove vanno i nostri ragazzi, c'è bisogno di aule, c'è bisogno di sicurezza nelle scuole, c'è bisogno di sicurezza nelle strade. Come la si fa se non ci sono risorse per fare gli appalti, per fare i manti delle strade, per sistemare i ponti, manutenzione dei ponti. Il presidente della provincia Vasaia ha annunciato nel corso dell'ultimo consiglio provinciale che si è svolto mercoledì mattina di aver presentato un esposto alla procura della Repubblica di Arezzo per illustrare le difficoltà finanziarie degli enti e la conseguente impossibilità di intervenire nei settori di propria competenza. Un atto precauzionale condiviso anche dai presidenti delle altre province italiane. L'esposto alla procura non ci è stato sottoposto, l'ha presentato direttamente il presidente Vasaia, io ho sostenuto che ha fatto bene a farlo, che magari se ce l'avesse fatto leggere prima forse era meglio, però comunque ha fatto bene perché siccome poi la responsabilità se la porta lui a livello personale almeno ha messo una pezza rispetto a quello che potrebbe essere una conseguenza che ricade solo su di lui. Il tema dell'approvazione del bilancio è stato dibattuto nell'ultima seduta del consiglio provinciale. Il presidente Vasaia ha illustrato l'impossibilità di procedere con l'approvazione del bilancio. L'atto è stato approvato con sei voti favorevoli e cinque contrari. Abbiamo spostato a dopo il consultivo e a dopo provvedimenti che sembra il governo debba prendere per far sì che le province possano approvare il bilancio perché ora tutte le province italiane, quasi tutte, avrebbero dovuto approvare un bilancio che non era quello reale. Un punto che ha sollevato alcune obiezioni da parte dei consiglieri di opposizione. Il primo di aprile se nulla cambia il prefetto chiederà agli enti che avevano l'obbligo di presentare il bilancio se lo hanno fatto e in caso di risposta negativa ha facoltà di chiedere lo scioglimento dei consigli. Ora questo è un rischio che secondo me il consiglio provinciale di Arezzo della provincia di Arezzo non può permettersi.